Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha danneggiato a Scalea uno stabilimento balneare. L'ipotesi dolosa è al momento la più accreditata dagli investigatori. La struttura, ubicata sul lungomare Ruggero di Lauria, è attiva anche d'inverno come caffetteria e bar. Sul posto, nella notte, hanno operato le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, di staccamenti di Scalea e di Paola, con il supporto di autobotti per rifornimento idrico. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme, evitando il propagarsi ad altre strutture ricettive nelle immediate vicinanze e consentendo la messa in sicurezza del sito. 15, le unità impegnate nell'opera di spegnimento con l'ausilio di 5 automezzi. Sul posto, anche i carabinieri della compagnia di Scalea, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all'origine del rogo.